Aumentare così gli fps sul gioco The First Scented quindi in questo caso è possibile aumentare gli fps come puoi vedere sto laggando, sto facendo intorno ai 24-25 fps ma grazie anche a dei vari programmi e alle impostazioni che possiamo usare nel gioco possiamo arrivare fino a 70-80 fps io avendo una 1660 Super e un processore Latin 5 3632 GB di RAM queste sono le performance che riesco a fare sul gioco quindi in questo caso in descrizione ho lasciato anche il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma Nvidia Profile Inspector che ci aiuterà così a diminuire un po' la texture per aumentare gli fps quindi di 10-12 fps in più oppure possiamo fare anche 20 fps in più sempre grazie al programma Nvidia Profile Inspector Ho fatto anche altri tutorial riguardo a questo programma usandolo anche su Fortnite aumentando veramente di moltissimo gli fps che trovi direttamente nelle schede in alto a destra quindi in questo caso apriamo il nostro programma questo è il pacchetto RAR che devi scaricare quindi tasto destro sopra win RAR extrai file in Nvidia Profile Inspector riuscirà così la cartella all'interno della cartella troverai il programma vai a scrivere qua sopra The First Sentent questo qua si collega direttamente al programma .exe che sta nella cartella del gioco scendiamo fino a giù fino a trovare l'anti-losing questo qua Transparency Multi-Sambling questo qua metti Abilita quest'altro qua invece Transparency Super-Sambling questo qua ci clicchiamo sopra e mettiamo quello che finisce per 0,8 doppia mod replay mode all questo qua scendiamo fino a giù fino a trovare così la texture filtering il più .7500 più 2.7500 ci metti questo puoi anche fare dei test sopra e vedere a quanto puoi ridurre la texture aumentando gli fps sul gioco quindi da 0,8 puoi anche mettere il 30 io metterei 10 e una volta applicato tutto texture filtering clicca più volte applica e vedrai dei cambiamenti sul gioco ovviamente il programma è compatibile con tutte le schede Nvidia per AMD non ti so dire puoi sempre fare un test per Intel invece no non è compatibile con Intel ed ecco a voi gli fps sul gioco che sono aumentati di parecchio senza avere problemi di lag quindi sto giocando molto fluido e ho attivato anche il quindi attiva anche il più boost gli fps limitati togli il v-sync per non bloccare gli fps ed eccoli qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aumentare gli fps sul gioco se hai altri problemi commenta sotto al video e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao